Filippo Busine, per quanto riguarda le partite IVA a regime minimo, che cosa ha chiesto il Governo? Ho chiesto se, in base a quanto deciso dall'Unione Europea e della Commissione Europea, che dà la possibilità di aumentare il tetto a 68.000 euro per il fatturato delle aziende o delle persone fisiche che possono beneficiare di questo regime, in vista di questa decisione, se intende agire di conseguenza e quindi ampliare la platea di chi può beneficiare di questa agevolazione fiscale, portando a sua volta il tetto a 65.000 euro. La risposta del Governo è stata quanto interlocutori e tecniche, praticamente mi hanno risposto che questo intervento costerebbe al Governo 29 milioni di euro, una cifra totalmente teorica e basata su dati statici che non tengono conto ovviamente di cosa sarebbe il beneficio invece per il Governo se riuscisse a mettere in moto una serie di iniziative imprenditoriali, magari di giovani imprenditori o di comunque attività che potrebbero beneficiare di questo regime. Non si calcola mai quale sarebbe in prospettiva il costo e il beneficio, si valuta sempre fotografando la situazione reale, attuale, che non è quella reale. Favorirebbe insomma quindi l'aumento di imprese sul territorio oppure anche di piccoli imprenditori o professionisti che potrebbero entrare nel mondo del lavoro? Certo, sarebbe un raddoppiare quasi la platea dei beneficiari di questa agevolazione e dare un incentivo, un incentivo importante, uno stimolo importante alla nostra economia, alla crescita di cui abbiamo ovviamente bisogno.